In questa puntata, PRS 2021-2025, Interventi in Sanità e Cultura, approvate tre risoluzioni della Lega. Istruzione, Università Americane, all'unanimità, il Consiglio chiede un sostegno diretto. PRS 2021-2025, Interventi in Sanità e Cultura, approvate tre risoluzioni della Lega. Attenzione agli ospedali minori, ai medici di medicina generale in zone periferiche e agli operatori del cinema e dello spettacolo dal vivo, accolti emendamenti del Partito Democratico. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre. Non solo sul piano fisico, ma anche sul piano immateriale, perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social, è un obiettivo perché, lo vediamo, quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale, perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid, è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario, con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Molte dichiarazioni roboanti si è passati dalla parola resilienza alla transizione, che si fa un po' per tutto. In realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio, non tutto va male, ma il Governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria, con un percorso chiaro, perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti. Entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti. E in questo senso, e concludo, va purtroppo il ritardo dei tanti piani e programmi di cui la Regione Toscana si è dotata o si dovrebbe dotare, dalla tutela delle acque ai piani faunistici allo stesso piano di mobilità integrata, sono tutti piani o scaduti o assolutamente non completati ad oggi, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche e tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il paera è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica perché la tenuta sanitaria di una regione determina il sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. Abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il Digital Divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male, che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Oggi nascono e nell'epoca della digitalizzazione avranno due vite differenti. Chi non nasce in zone coperte dalla digitalizzazione, zone più evolute da un punto di vista digitale, parte svantaggiato. E questo è un qualcosa di totalmente inaccettabile. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058. Quindi o si investe in qualcosa che in futuro porta una monetizzazione in Toscana, qualcosa che porti monetizzazione, che porti interesse, e che si riescano a capitalizzare questi soldi oppure quello che oggi sembra un regalo, sembra un pacco regalo, potrebbe diventare un incubo. Perché se oggi questi soldi vengono spesi in provvedimenti spot che non portano un ricircolo del denaro, che non portano in un rilancio reale dell'economia, quello che oggi sembra un regalo potrebbe diventare presto un incubo. Il Consiglio regionale all'unanimità impegna la Giunta ad attivarsi quanto prima nei confronti del Governo e del Parlamento affinché vengano attivate misure di sostegno diretto ai docenti delle università americane in Italia e più in generale al settore dell'International Education che include anche le scuole di lingua e cultura italiana particolarmente colpito dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 e sin cui è rimasto escluso dai provvedimenti governativi di ristoro. La Quinta Commissione ha presentato un atto in Consiglio regionale oggi una risoluzione per aiutare e sostenere un mondo di imprenditori e di dipendenti che finora è rimasto fuori da ogni meccanismo di aiuto da ogni provvedimento di aiuto e sostegno. Si tratta del settore dell'educazione internazionale dell'International Education università americane scuole di italiano per stranieri istituzioni generatrici di indotto anche turistico perché poi si trattava di scuole e centri di formazione che attiravano studenti da tutto il mondo e che al momento sono rimaste completamente a zero e senza poter esercitare la loro attività senza utenti che invece stanno pian piano tornando. È un settore che impiega moltissimi insegnanti precari di un mondo di istruzione che però non è percepito dalle nostre istituzioni della scuola e dell'istruzione e sfugge anche alle dinamiche dei sostegni alle imprese. Ci sembra un settore da aiutare è un settore che ha in Toscana numeri rilevantissimi tra Firenze e Siena ci sono le due città in Italia che raggruppano più centri più scuole internazionali dopo Roma e quindi diciamo che è un settore che caratterizza moltissimo e dà identità al nostro territorio. Ci sembrava importante prevedere e favorire un aiuto a questo settore a tanti dipendenti a tanti insegnanti che sono rimasti appunto senza poter lavorare sperando di poter avere questo settore di nuovo attivo e capace di attrarre un turismo di permanenza di visitatori che diventano cittadini temporanei e contribuiscono alla internazionalizzazione del nostro territorio. Tramandare il mito della Vespa da una generazione all'altra da un nonno novantenne ex operaio della Piaggio al nipote sedicenne il cortometraggio sulle ali della Vespa è realizzato con gli studenti attori dell'Ipsia di Ponte d'Era all'interno del progetto Mibact Siae per chi crea è stato girato a Vicopisano in piena pandemia In questo video che io ho avuto la fortuna già di vedere c'è la nostra idea di Toscana il racconto attraverso gli occhi del nonno ex operaio della Piaggio del mito della Vespa a un nipote sedicenne la voglia di ripartenza l'idea di un'Italia che ce la può fare di un'Italia che scommette sul futuro la Vespa è un mito un mito per tanti italiani e tanti italiani è un simbolo di toscanità nel mondo la Vespa è saper tenere insieme tradizione e innovazione la tradizione legata alla vita che tanti di voi tanti di noi hanno avuto sulla Vespa i primi amori le prime conoscenze la voglia di guardare al futuro con speranza e dall'altro l'innovazione l'innovazione legata a nuove tipologie di mobilità penso alla mobilità elettrica la situazione a Vicopisano sta riprendendo cominciamo a rivedere turisti visitatori non ancora chiaramente a livelli pro covid dove erano in grande crescita questo è un altro importante progetto importantissimo anche come visione che noi vogliamo appoggiare che stiamo appoggiando e che spero che anche la regione continui a appoggiare con questa forza per ottenere risultati importanti per la nostra comunità è stato presentato il bando di concorso per videomaker Toscana in spot 2021 ritorno al futuro indetto dal core come il comitato regionale per le comunicazioni per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sul tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050 si tratta di una iniziativa per consentire soprattutto alle nuove generazioni di esprimere la propria visione dello sviluppo della nostra regione dal punto di vista sociale culturale economico ambientale saranno premiati i tre migliori spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana questo bando prevede la possibilità di offrire ai filmmaker che vorranno partecipare la possibilità di vedere la Toscana nel 2050 quindi di dare massimo sfogo alla creatività alla fantasia e all'immaginazione che è poi libertà e allora pensare a come noi viaggeremo a come noi costruiremo le nostre città a come noi lavoreremo molte cose con la pandemia hanno modificato il nostro sistema di mobilità di cultura di comunicazione ecco probabilmente quando costruiranno lo spot della Toscana nel 2050 queste cose faranno ricchezza del progetto della Toscana ringrazio Enzo Brogi che subito ha accolto questa sfida ha deciso come Corecom di lanciare l'idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050 io mando un appello a tutte le ragazze e ragazzi toscani partecipate date il vostro contributo provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani di domani